buonasera a tutti ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati sul mio canale questa sera finalmente potremo cominciare il nuovo gameplay di the sims 4 vita di campagna c'è stata tantissima attesa e io non vedevo l'ora io spero che vi divertiate e vi auguro buona visione e se non vi siete ancora iscritti al canale vi ricordo di iscrivervi attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti e ti vi assicuro che saranno veramente tanti noi ci vediamo tra pochissimo in partita grazie a tutti ebbene ragazzi eccoci qua in partita sono emozionatissima adesso vi faccio vedere chi sono i principali protagonisti della nostra miniserie ovvero continuiamo la nostra partita con hope che non ha assolutamente lasciato la carriera di arredatrice di interni però adesso si è voluta prendere una vacanza dopo che con alex è finita dopo che hanno avuto il loro primo figlioletto emerson ed è venuta qui dal nonno il nonno a tutti gli effetti aspettate johnny non so perché mi ricordavo richard forse richard al papà che c'è comunque nel nella partita ma lo vedremo di tanto in tanto insomma lei comunque si è voluta trasferire qua per prendersi una vacanza cambiare aria e far crescere il suo figlioletto che mi sa che sia rimasto fuori credo di sì vai qui che ormai comunque ha già variabilità a buoni livelli immaginazione 5 comunicazione 2 movimento 3 pensiero 1 e vasino 2 e qui ovviamente gli mancheranno certe cose che non ci sono più perché ad esempio la tenda l'abbiamo potuta sperimentare solamente una volta alla tenda di arredi da sogno ma vedremo tutto il resto vedremo tutto il resto perché qui c'è veramente ho smanettato ieri sera da ieri sera in poi ho smanettato praticamente tutta notte e tutt'oggi costruire è particolarmente difficile per quanto mi riguarda non è assolutamente lo stile che conosco io ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo avanti con appunto tutto quello che c'è da fare e sono veramente veramente tantissime cose allora oppi intanto deve cambiare aspirazione di vita perché l'avevamo terminata quindi io direi che come aspirazione di vita la facciamo diventare custode di campagna e vedremo un po che cosa combinerà intanto qui abbiamo il pollaio come vedete siamo in piena città siamo nel quartiere diciamo del paese principale ne abbiamo di soldini perché appunto i simoleon ci sono rimasti in parte dalla nostra carriera quindi abbiamo diviso più o diviso più o meno le spese con alex allora prenderei una gallina bianca una gallina nera e facciamo un gallo marrone così li abbiamo tutte e tre nel frattempo apriamo il tacquino dolcetto amichevole qualsiasi frutto verdura non abbiamo nulla di nulla ah no abbiamo la noce di cocco la palma da cocco che può essere eccetera il frutto di plasma pesci ne abbiamo ne conosciamo parecchi perché appunto nella pesca nella pesca nella pesca aveva già al livello 6 con gli animali non ne sa niente a e poi animali a parte mi sono scordata rocchi e sanni che sono i due bovari del bernese di del nonno perfetto allora lei si occuperà degli animali e nonno probabilmente principalmente del giardinaggio perché con l'addestramento animali tramite i suoi cani è arrivato già a livello 5 ad esempio quindi di animali se ne intende lui ok 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 allora nonno compriamo subito dei semi di prodotti agricoli abnormi allora la melanzana e l'anguria andiamo sul verde sul viola siamo in estate quindi vedremo un po appunto anche le stagioni ci vedremo tutto ciò ah non vedo l'ora non vedo l'ora allora per piantare lui deve andare qui e piantare prodotti abnormi agricoli abnormi e gli rifacciamo subito piantare o gli darà una mano col giardinaggio ma nel frattempo deve conoscere e occuparsi di questa questa canalietta che è veramente fantastica non l'ho ancora modificata ora avevo modificato mi ricordo comunque li modificheremo perché ci sono tutti gli abiti nuovi acconciature nuove eccetera quindi sono tutti da modificare parliamo appunto a cuore aperto come si usa enford ci sono anche le challenge c'è tutto quindi è veramente veramente oh vieni qui e saluta il gallo gruga al gallo marrone nonno hai piantato su innaffia tutto oh lui nel frattempo sta facendo amicizia con galline e galli il nonno parla della borsa all'ori acquistiamo anche dei fertilizzanti due pratici e due vitalità voi l'avete preso come vi siete trovati avete cominciato a giocare so che ci sono stati problemi con i server e tutto quanto io grazie al cielo non ho avuto nessun tipo di problematica di questo genere quindi sono felicissima cucina e quindi volevo appunto che ha giusto abbiamo la intratto non abbiamo niente di niente bene allora subito con il nonno ci receremo in città allora compriamo articoli e compriamo articoli perfetto andiamo subito a comprare articoli e poi dopo andiamo a vedere la bacheca informiamoci sugli abitanti del paese e sulle fiere quindi come vi siete trovati vi è piaciuto avete cominciato già con un lama una mucca chi dei due avete preferito o il pollaio appunto come vi siete trovati fatemelo sapere nei commenti mi raccomando e se ci sono delle preferenze su appunto animali vari nomi eccetera scrivetemelo pure che a me fa più che piacere allora compriamo cosa compriamo come allora compriamo due basilici ma giusto o le ciocobacche mi servono la cipolla il dolcetto amichevole il dolcetto festa di animali proteico salutare vegetariano il fungo verdeggiante fantastico il globo lucente ok sto facendo una spesa all'infinito dunque vediamo un po l'anguilla lupo l'anguria piccola o il latte ci serve anche perché abbiamo un bimbo la camomilla ci serve la carne ci serve la carota ci serve la ciocobacca ci serve la cipolla ci serve ok allora agatha crumple bottom agnes crumple bottom michael bell che è il sorvegliante di creature raul che è il corriere kim la proprietaria del negozio alimentari lavina al sindaco e sarah scott la proprietaria del pub ma sono sicura che tutte queste cose le sappiate già abbiamo la fiera dei polli come prima cosa bene direi che ok noi qui abbiamo tutte le cose nuove sul taccuino perfetto come vi è sembrato il taccuino fatto nella nuova maniera appunto vi trovate meglio vi piace di più non mi piace dunque festival dei polli si per benissimo tipo noi qua possiamo grigliare se non abbiamo carne il surrogato della carne ci manca per tante cose scoperta ancora nuova tutta mia e quindi vi assicuro che ripeto cercherò di andare più in fretta possibile ma nel senso essere più più sintetica possibile ma è difficile anche per me dov'è il nostro emerson emerson ha anche fame dove è andato corri in giro balla e qua fuori che cammina e allora diamo il pasto per emerson o adesso più o meno possiamo fare tutto cuciniamo i maccheroni al formaggio formato famiglia intanto vieni a vedere come sto pollaio ci sono già le uova uova raccogliibili due raccogliamo le uova subito vediamo un po' che tipo di uova sono e quindi ci direi che per questa prima puntata comunque ci concentreremo solamente su questo nuovo arrivo in a anford ombagli e vedremo un attimo che cosa uovo nuovo un comune uovo fresco da fattoria vediamo un attimo se sono da cova no e no quindi mettiamo lì dentro al frigo quindi direi che per questo primissimo episodio ci concentreremo giusto sulla cittadina sugli abitanti e quindi vedremo un po' di fare queste di cose perché appunto ripeto è molto lunga secondo me ok noi stiamo socializzando con galli e galline nel frattempo socializza chiedi cosa fa a ruffare le piume socializza chiedi di spiegare cos'è la cresta terrestre come vedete appunto i gatti ancora non li ho sperimentati ma i cani comunque non danno minimo problema vengono qui anzi forse volendo tengono anche lontano le volpi perché le vedono prima quindi sono anche dei buoni allarmi forse ah no lo ho modificato come potete vedere sì l'avevamo modificato e aveva questi di capelli no nonno vieni qui a riprendere sti maccheroni al formaggio per favore guardate lo si è messo a letto da solo c'è un bambino prodigio sul serio vedremo poi appunto anche alex in giro per la per la città diciamo perché anche lui si è comunque risposato ha avuto una bimba con luna villareal nella precedente partita perciò però perciò quindi in questa partita rinomineremo questa luna ecco e giustamente lui credo che abbia fame sì quindi nonno finisci i modi preparare per favore che così si è riaddormentato in 448 no 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 vabbè nonno vuole dormire in camera con lui va bene ripulisci ripulisci e dormi volevo assegnare il letto singolo a Hope in camera col suo bimbo però se ci può stare il nonno nel letto singolo non c'è problema assolutamente sto costruendo comunque la seconda casa dove andremo a stare che è la casa principalmente del nonno e Hope per un po' però si trasferirà lì con Emerson e vedremo appunto di conoscere anche la mucca il lama e tutto quello che ne viene con loro tra qualche puntata direi che potremmo potrà essere tutto perfettamente pronto altre scelte apri vieni qui tesoro e vieni a mangiare prendi una porzione no 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 Emerson prendi una porzione nonno vabbè tu c'hai il latte da mettere in frigo se no va male ecco se c'è una cosa che mi sono spesso dimenticata di fare provando il gioco è di mettere la roba nel frigo mungevo magari la mucca e poi mi scordavo di mettere il latte nel frigo quindi andava male la farina, lo zucchero, i vari dolcetti non credo che vadano male il pane sì e il formaggio sì ok eccoci qui tutti i svegli perfetto devono andare tutti in bagno quindi Hope adesso aspetti un attimo che il nonno abbia finito e dopo ci puoi andare anche tu Emerson nel frattempo sta socializzando con i cani anche e il nonno ha fame quindi facciamogli cucinare serviamo la colazione frittelle nonno serve la colazione frittelle perfetto dopo viene a occuparti del giardino e dobbiamo spruzzare l'insetticida ok ok Hope pulisci il collaio poi dopo spargiamo del mangime attorno a noi e poi ci sono quante uova? due uova raccoglibili perfetto allora raccogliamo le uova da cova a noi da cova sì quindi questa la rimettiamo qua perfetto questa la andiamo a mettere in frigo infine per quanto riguarda appunto l'età di un sim eccetera per adesso dato che il nonno è già un anziano quindi volevo godermelo un po' e tutto per adesso lasciamo comunque così invariato tra un po' metteremo la vita lunga del sim così appunto tutto sarà fattibile ma c'è il nostro cagnone che ha paura dei polli allora fertilizziamo il prodotto agricolo col fertilizzante crescita veloce per i casi in cui i prodotti agricoli devono crescere in fretta una dose quotidiana di questo fertilizzante sveltirà il ciclo vitale di qualsiasi prodotto agricolo portandolo a maturazione in tempo per la gara e io direi che potremmo fertilizzarlo così appunto bene nonno dai allora anche tu adesso puoi socializzare un po' comunque con giocare ho molta paura nel giocare subito con polli e galline perché io già di mio ho paura dei polli e delle galline e di del fatto che ti beccano così senza che tu te ne possa rendere conto ecco lamentati della pollalisse sono veramente bellissime le interazioni come sono state chiamate come siano state chiamate mi piace davvero moltissimo una fantasia di prima categoria sul serio guardate il nostro emerson che balla io volevo comprare più che altro aspettate un attimo che lo compriamo perché ci serve ci serve ed è l'altra abilità che dovrà appunto portare cominciare e vediamo se riuscirà a farne qualcosa ovvero ricamare col punto croce quindi io direi che cominciamo con un telaio piccolo forme vediamo un po' che cosa è in grado di combinare lui deve andare in bagno però mi sembra che stia abbastanza bene per adesso Giulia è la mamma di è la mamma di Hope e figlia di Johnny del nonno Johnny però no per adesso in questa puntata non ci troviamo da nessuna parte ne abbiamo già troppo guardate che bravo guardate che bravo prende e se ne va nel letto da solo nonno allora terminiamo questa prima puntata così appena avrai finito di pazzolare il tuo cagnone andrà in bagno e poi andremo al bar al pub eccoci qui alle braccia dell'ognomo con tutti i personaggi principali tanti dei personaggi principali di questo nuovo di questa nuova espansione amichevole presentazione amichevole io direi di cominciare a prendere subito degli incarichi per ottenere nuove cose sbloccare appunto varie cose quindi andiamo subito da sala scotte presentiamoci un po' con tutti con lei ci siamo già conosciuti a quanto pare parla a cuore aperto come si usa a Hanford e poi offre aiuto a sbrigare le commissioni a nessuno piace farsi sputare addosso tantomeno alle volpi se ti hanno creato qualche problema potresti risolvere posizionando un lama nel punto migliore da cui sputare su quelle furfanti per adesso per adesso direi di no allora una semplice richiesta ti capita mai uno di quei uno di quei giorni in cui hai troppo da fare e poco tempo per farlo hai bisogno di alcuni ingredienti per il mio avrei ho bisogno di alcuni ingredienti per il mio prossimo pasto ma non so bene quando avrò un momento libero riusciresti a darmi una mano ok premio un assortimento di ingredienti fertilizzante e se hai fortuna un pasto appena preparato il mio pub ha riscosso un certo successo ma sono sempre in cerca di novità nel momento e credo di aver individuato una nuova entusiasmante bevanda che potremmo predispoporre qui e solo qui ma la gestione del pub mi porta via molto tempo e potrebbe farmi comodo una mano che ne pensi ti andrebbe di contribuire con qualche con qualche tua magia mixologica premi la ricetta di una nuova bevanda ingredienti da cucina un pasto appena preparato una visita amichevole è da un po' che vorrei andare a trovare alcuni miei amici in giro per il paese ma ho sempre da fare ti dispiacerebbe fare due passi a vedere come stanno tutti quanti io direi che li accettiamo tutte e tre ovviamente non le sbrigeremo stasera ma ci daremo da fare per sbrigarle tranquilla la prossima puntata che poi forse qualcosa già ci abbiamo allora per la prima dobbiamo consegnare quattro militini selvatici al sim proprietario del pub adesso ovviamente qui diciamo che bleffiamo un po' perché appunto sarebbe roba che abbiamo comprato prima appunto ecco che abbiamo consegna il mirtino selvatico una ciocobacca e un lampone e sono cose che abbiamo comprato prima vediamo un po' fantastico quindi consegna un fungo affascinante e un fungo verdeggiante abbiamo dei funghi di quel genere lì adesso non mi ricordo quali due però prima li volevo piantare quindi ci daremo un attimo da fare per quello poi dopo i quattro mirtilli selvatici al proprietario del pub vediamo un attimo vediamo un attimo vediamo un attimo i mirtilli selvatici ne mancano due ok siamo tornati a casa perché non abbiamo trovato nessuno tra lì nel bar che appunto consegnasse i pacchi del paese e quindi lasciamo stare per questa questa volta anche perché si erano cominciati a vestire tutti da orsi dato questa sera era la sera dell'orso insomma cose così e quindi cosa sta facendo fai una ramanzina sul mangiare la cacca non c'è mai stata questa interazione col cane e non avevo mai visto un cane in the sims farlo va bene dopo apriamo e diamo da mangiare a emerson comunque dicevo praticamente non abbiamo trovato nessuno quindi per questa puntata il nonno le sue commissioni le termina qui perciò abbiamo ancora comunque da portare 4 mirtilli selvatici al sim proprietario del pub consegnare il fungo affascinante il fungo verdeggiante e poi ottenere il pacco del paese da qualcuno ma il nonno è distrutto altamente distrutto quindi lo mandiamo a letto adesso e è verso il finito qui deve farsi deve mangiare quindi io spero di essere stata abbastanza sintetica nel senso che non mi sono non sono stata risperdermi troppo spero che nel frattempo vi siate divertiti e cominci appunto a piacervi questa miniserie che adesso pian piano poi appunto imparando anch'io forse riusciremo a fare con un po' più di velocità perciò se vi siete divertiti mettete un like al video iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella per non perdere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti che cosa dire è tutto un po' scombussolato anche per me grazie comunque per avermi fatto compagnia fino adesso e noi ci vediamo alla prossima puntata buona serata a tutti ciao 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 ciao